Le nostre telecamere si sono portate nuovamente a Portafoggia per documentare l'indisciplinatezza di molti guidatori, che era già stata messa in evidenza dalla redazione di News & TV in numerosi precedenti servizi. Le ormai continue infrazioni di tipo automobilistico che attanagliano la nostra città sembrano non fare più notizia. Neppure le due auto tranquillamente parcheggiate alla rotonda adiacente all'istituto scolastico Lombardo Radice, all'uscita dall'istituto degli scolaretti, sembra turbare l'animo della popolazione oramai abituata o semplicemente rassegnata a cotali situazioni divenute all'ordine del giorno. Persino la presenza sul posto dell'unico agente di polizia municipale sembra intimidire i parcheggiatori facili. Il vigile risulta troppo impegnato a preoccuparsi della sicurezza degli alunni e a far defluire le autovetture sulle arterie cittadine che lambiscono l'istituto. A questo punto pare lecito chiedersi se non sia meglio fornire un ausilio di uno o più addetti in una zona nevralgica, già vittima dell'elevato numero di vetture e del conseguente tasso di smog, soprattutto nelle ore di punta, oltre chiaramente ad augurarsi che il buonsenso degli automobilisti la faccia da padrone, sul tema guida e parcheggio.